HG RINNOVA MOBILE IN LEGNO è un prodotto eccezionale per la manutenzione di mobili decapati, laccati, oleati, non trattati o incerati. Con HG RINNOVA MOBILE IN LEGNO si eliminano le macchie e i cerchi d'acqua e bevande alcoliche. I mobili grigi e sbiaditi riacquisiranno la loro colorazione e brillantezza naturale e anche i graffi verranno nascosti. Applicare HG RINNOVA MOBILE IN LEGNO in abbondanza e in fasce rettilinee con un panno pulito e che non rilascia pelucchi e lasciare agire per 6-10 ore. Eseguire un nuovo trattamento nei punti dove il prodotto è completamente penetrato. Una volta lasciato agire completamente il prodotto, rimuovere il residuo con un panno pulito.